Benvenuti ragazzi, vi parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato ragazzi con un nuovo sneak peek dell'episodio 7x3, quindi del terzo episodio della settima stagione E ovviamente abbiamo molti più particolari da analizzare, quindi sarà un'analisi veramente abbastanza accurata Di quello che è stato questo nuovo sneak peek che ovviamente raffigura Daryl e Dwight Quindi uno sneak peek veramente interessante Ovviamente lo sneak peek lo trovate in descrizione in quanto non posso caricarlo ma vi metterò alcune immagini per farvi capire bene o male quello che sto dicendo Ovviamente il link lo potete trovare in descrizione per vederlo e una volta visto fatemi sapere cosa ne pensate qui giù nei commenti Adesso partiamo subito con il video Allora partiamo dal presupposto ragazzi che questo sneak peek è veramente molto molto interessante in quanto c'è un discorso che c'è tra Daryl e Dwight Quindi vediamo proprio un Daryl che comunque sia è ovviamente sotto il controllo di Dwight, sotto il controllo di Negan Però praticamente cosa succede? Praticamente lui osserva questo posto, quindi osserva questo... Diciamo quegli zombie che sono messi dietro quella recinzione lì e le persone che li... non so quello che effettivamente stanno facendo Se li stanno controllando, li stanno bloccando, non so cosa E Dwight usa la sua balestra, usa la balestra di Daryl e sicuramente ovviamente gli parla Non ho capito bene quello che ha detto, infatti non vi so dire appunto cosa ha detto Dwight a Daryl dopo aver sparato il colpo di balestra Però vediamo una cosa molto interessante che ovviamente è da analizzare parecchio E' il fatto che lui abbia una A sulla maglietta Ovviamente già avevo parlato di questa cosa qui nel precedente video dove parlavo sempre di questo sneak peek Però ragazzi non abbiamo mai capito bene o male cosa stessa significare la F che era sulle altre persone Perché come vediamo le altre persone hanno scritta una F In molti suggerivano fosse il nome della persona che appunto... che magari l'iniziale appunto del nome della persona Quindi in questo caso ci doveva essere la D su Daryl in quanto lui ovviamente si chiama Daryl e inizia con la D Però c'è una A quindi non si riesce bene a capire insomma cosa sia questi numeri che sono sopra la maglietta di Daryl Ovviamente non ci fa pensare nulla in quanto comunque una A generica Io non ho trovato... non sono riuscito a trovare collegamenti diciamo validi per questa teoria su questa cosa qui Nel senso che non sono mai riuscito a capire come funzionasse questa... questa cosa qui con le lettere E... effettivamente non lo so Se voi lo sapete scrivetemelo giù nei commenti se avete capito qualcosa da questo sneak peek Però io sinceramente non ho capito nulla in quanto una A non sta a significare nulla Non credo che abbia un certo significato E... non so minimamente cosa sia Forse è Negan come etichetta diciamo le persone a seconda del T... del... non lo so del tipo della persona O dei gruppi li suddivide in gruppi e li chiama con le lettere Non lo so ragazzi questo non ve lo so dire Quindi è una cosa veramente molto interessante in quanto ci stavo pensando tutto oggi a capire cosa stesse significando questa A Però no ragazzi non ho veramente nulla in mente Però sicuramente ce lo spiegherà bene nel terzo episodio Quindi vedremo nel terzo episodio questo significato qua Poi che cosa succede che Daryl viene praticamente sbattuto sulla recinzione da Dwight e gli dice Tu puoi diventare come loro se non diciamo obbedisci e... e non... e non segui i nostri ordini Puoi diventare come loro o come me o appunto sì come loro Insomma fa questo discorso qua a Daryl che ovviamente ho capito bene o male quello che ha detto Quindi non lo so ragazzi a me da l'impressione che comunque sia loro dietro quella recinzione Siano ovviamente diciamo schiavi di Negan se si può dire così che sono con gli zombie Non so minimamente il motivo per cui siano lì Forse sono prigionieri come già ho sospettato io Però non mi spiego il motivo per cui appunto Daryl essendo un prigioniero di Negan non sia tra loro insomma L'unico pensiero che stavo avendo è che Negan non lo vuole mettere come prigioniero Ma lo vuole mettere come suo uomo diciamo valido per fare quello che deve fare insomma per sfruttarlo Beh non male ma non vuole considerarlo come un prigioniero come lo sta considerando gli altri salvatori Quindi cioè le altre persone che sono prigioniere E sinceramente io non capisco come ripeto il motivo per cui ci sia quella app Ci sia queste lettere uno sneak peek veramente che non ci fa capire nulla di cosa stia succedendo in questa situazione Però Dwight mi fa capire che comunque sia vuole far capire a Daryl alcune cose Però ovviamente non possiamo scoprire quali In ogni caso comunque vedo un Daryl veramente molto confuso nel guardare quei zombie lì dietro quella recinzione Staremo a vedere ragazzi come si evolverà il tutto anche se sono molto scettico su questa cosa Cioè io sono dell'idea che appunto Daryl non diventerà proprio come Negan vuole che diventi Quindi sia sotto i suoi ordini si ribellerà sicuramente in quanto non vediamo un Daryl che si sottomette facilmente Staremo a vedere come si evolverà la cosa anche perché nella promo stesso Negan ha detto non ti spaventi facilmente Quindi questa frase qui mi fa pensare che comunque sia voglia spaventarlo in qualche modo Quindi credo che questo sia uno dei metodi per cui appunto Negan vuole spaventare Daryl Non lo so queste sono tutte teorie ovviamente staremo a vedere cosa succederà appunto lunedì Cioè domani per questo appunto terzo episodio di The Walking Dead Ovviamente come sempre domani uscirà la recensione quindi non farò più ragazzi la reazione O non penso di farla più in quanto comunque sia non credo abbia tanto senso fare ogni video una reazione Farò direttamente una recensione e penso che concludiamo insomma farò una recensione e basta Una recensione analisi completa tutto qua Nulla ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto appunto scrivetemi giù nei commenti Cosa ne pensate di questo sneak peek se avete capito un po' più di me O avete capito qualcosa che io non ho notato insomma scrivetemi qui giù nei commenti Spero questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale se non è ancora fatto per non perdervi i prossimi contenuti di The Walking Dead Ci darei lasciate un mi piace se lasciate un mi piace appunto perché mi supportate davvero tantissimo E passate nella pagina Facebook e nel profilo Instagram tutti i link li trovate nella descrizione Quindi nulla noi ci sentiamo in un prossimo video Un saluto da Foxhound e The Walking Dead News, spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti